Bene, oggi, dopo aver visto la vostra scorsa lo studio analitico, cioè teorico se preferite, del moto di un corpo appeso a una molla, vi ricordo che abbiamo visto, immaginate questo sia il soffitto, abbiamo la molla appesa verticalmente, sotto c'è un oggetto di massa M che oscilla verticalmente compiendo un modo periodico che abbiamo visto essere un moto armonico. Perché? Perché la forza risultante applicata all'oggetto M, quindi la sua massa per la sua accelerazione, è data da meno K volte, se ci riferiamo alla Y0 come la posizione di equilibrio, quindi avremo lo spostamento alla posizione di equilibrio Y meno Y0, quindi questo è il delta Y, quindi l'allungamento barra l'accorciamento della molla. Ogni volta che, quindi da qui, otteniamo che dividendo per la massa, abbiamo che l'accelerazione vale meno K fratto M, supponiamo che, per brevità, il nostro Y sia l'origine delle nostre coordinate, per Y, posto che Y0 lo mettiamo a 0. se ho un moto in cui l'accelerazione è proporzionale con una costante negativa alla posizione, quindi questo posso confrontarla con la caratteristica fondamentale del moto armonico, che è A uguale a meno omega alla seconda Y, l'altra volta avevamo visto un moto orizzontale, quindi avevamo la X, ma il principio è lo stesso, allora posso dire che è un moto armonico, cioè un moto dove la legge oraria è una funzione goniometrica del tempo, cioè una cosinusoide o una sinusoide. Nel caso della Y, avevamo che Y può essere posto uguale a una costante iniziale, l'ampiezza dell'oscillazione, per il seno di omega T più eventualmente un angolo iniziale, se non si parte da 0. Ok? E questo è un moto armonico, dove la pulsazione del moto omega, proprio per il confronto con l'equazione del moto, omega alla seconda uguale a K fratto la massa. Ok? Dove K è la costante elastica della molla. Ora oggi andiamo a analizzare il moto reale di un oggetto affeso alla molla, e andiamo a confrontare il suo moto, il moto misurato, con questa legge teorica. E quindi andiamo a stimare il valore di omega o l'omega quadro, che si vuole, e quindi invertendo questa possiamo anche trovare, per esempio, la costante elastica della molla, in quel caso avremo che K è omega quadro per M. Quindi abbiamo una misura dinamica, invece che statica, della costante elastica. D'accordo? Abbiamo visto che questo, ripeto, questo risultato, fatemelo cerchiare in rosso, ecco questo, è il risultato dell'analisi teorica, cioè se vale questa posizione, cioè se la risultante è una forza elastica, ok, allora vale questa legge del moto, e quindi il moto è un moto armonico di questo tipo. Adesso andiamo a vedere se è realmente così. La nostra ipotesi di partenza è che funzioni il secondo principio della dinamica e che la forza responsabile dell'ossillazione della molla sia la forza elastica, esposta, cioè, o descritta da questa relazione. Potremmo anche sbagliarci, potrebbe non essere così, o potrebbero essere degli aspetti che abbiamo trascurato, ve ne dico subito uno per esempio. Un aspetto che non abbiamo considerato nella nostra analisi è il fatto che la nostra molla si muove in aria e l'aria è un fluido viscosa e quindi esercita una forma di attrito sul moto della molla che la rallenta. E' facile immaginare che se noi adesso andassimo in laboratorio, facciamo oscillare la molla, torniamo su, tra un'ora troviamo la molla ferma. Perché? Perché l'attrito l'ha rallentato, cioè ha smorzato il moto. Se invece stiamo lì, che ne so, due o tre minuti, non ce ne accorgiamo perché magari l'attrito agisce poco. Però questo è un, tra virgolette, effetto di secondo livello, insomma. Se noi ci rimettiamo a qualche oscillazione, dovremmo riuscire a trovare una legge di questo tipo. Per farlo andiamo a utilizzare un moto reale, filmato in laboratorio, adesso ve lo mostro, vediamo se sappiamo che parta. Eccolo qui. Togliamo l'audio che non serve. Questo l'ho filmato qualche anno fa in realtà, ma lo faremo filmato nostro. E la molla, il corpo ha preso la molla, ha una massa di, mi ricordo male, doveva essere 125 grammi circa. E la scala dell'immagine, sono fissato a questi due puntolini, ecco dove ho messo il bigliettino, 624, 623 e mezzo. Adesso andiamo a, utilizzando il filmato, ad analizzare che tipo di moto segue il pesetto attaccato alla molla. Ok? Quindi, per farlo, utilizziamo il software che usiamo sempre, che è... quello qui, tracker. Trasciniamo il filmato dentro l'area principale di lavoro. Qui il filmato parte già da una, da una depositiva buona, però ci sono moltissimi fotogrammi, le useremo, qui per esempio, ce ne da 471, ci basta qualche oscillazione, ci mettiamo a 120 fotogrammi, quindi è questa piccola parte, non è più che sufficiente. Dopodiché, vado sulla seconda icona e imposto la scala dell'immagine, con il nastro di calibrazione. Tasto maiuscolo, punto su questo punto, poi mi sposto a destra, punto su questo punto, tenendo presente il tasto maiuscolo e lui di su mi dice che sono 916 metri, che ovviamente è una scala interna fictizia, sostituisco con questo 0,4 perché sono 40 cm, l'ho messo proprio lì a posto, l'avevo scritto anche qua sotto che si è rovesciato. Ecco, in questo modo abbiamo comunicato al software che questa distanza, se ci potevo fare un po' con meglio, ma sono pazienza, corrisponde a 40 cm, quindi adesso tutte le coordinate che il software associa a nostra immagine sono scalate in metri. La distanza temporale tra un fotogramma e successivo, togliamo questo, ce l'abbiamo qui dentro, nei click settings, che è questa qui, frequenza di quadro, o l'FPS, frame per second, quindi sono 30 fotogrammi al secondo, quindi da un fotogramma e successivo c'è un trentesimo di secondo. non è il massimo, perché se il corpo è molto veloce l'immagine è sbiadita, però per il nostro esperimento va più che bene. Poi, posto questo, andiamo ad associare il nostro sistema a un sistema di assi cartesiano, lui mette la X in orizzontale, bisogna metterla ovviamente al centro dell'immagine, io le posizionerei su questa, sul nostro pesetto, dopo andiamo a regolarla in modo tale che il centro dell'ossillazione sia lo zero, lo faremo tra un attimo. Tolgo anche questo, adesso andiamo a tracciare, in realtà qui non ho il mouse man pazienza, a tracciare questo particolare dell'immagine, diremo al software, individua l'immagine del pesetto, e segnala, cioè registra nella posizione, in ogni fotogramma, da qui fino al numero 120, c'è questa frazione del video che ci interessa. Per fare questo andiamo su nuovo, punto di massa, lui mi crea un punto di massa che chiama massa A, ci va anche bene, lo marcherà con questo rombo rosso, in ogni fotogramma, metterò con un marcatore, clicco su questo e vado su autotraccia, mi apre questa finestra, tra un attimo vediamo cosa fa la finestra, qui riporterà sul grafico in alto, le coordinate che trova, a noi la X tutto sommato non interessa, preferiamo la Y, quindi vado col mouse sulla X, dico anziché la X mostrami la Y, va bene, dopo di che andiamo sull'immagine, tengo premuto il tasto maiuscolo, il tasto control, il puntatore si trasforma in un mirino, e punto al centro di quello che voglio tracciare, dovre, ah scusate, perché siamo alla fine del fotogramma, quindi va bene così, lo rifaccio, vediamo se mi da qualche, segno di vita, no, sì eccola, allora, mi appaiono due aree, una rettangolare tratteggiata, quella è l'area di ricerca, il soffro mi dice, guarda quello che tu vuoi, io lo cerco qua dentro, allora io gliela allargo un pochetto, per essere sicuro che la becca, il punto di che c'è una struttura circolare, con un mirino al centro, dice, io cerco quello che c'è dentro questo tondino, che è quello che mostra qui, dice, io cerco queste, o trovo queste, chiaramente sul primo fotogramma, le due cose sono identiche, a me però interessa che questa cosa sia un pochettino più larga, perché? perché voglio che identifichi l'immagine, l'immagine caratteristica che non abbia uguali in tutto il fotogramma di ricerca, quindi la metto un pochettino più larga, se ci riesco, non è molto facile perché quel touchpad non è il massimo, non avrei dovuto usare il mouse, ma all'occorrenza lo prendo, ecco, qui, perché seleziono questa parte? Perché questa parte non ha altri uguali nel mio fotogramma, e quindi il software dovrebbe non aver dubbi su cosa identificare, quando l'avrà trovata, la marcherà con un rombo al centro dell'immagine, una volta che sono soddisfatto da quello che ho, che ho detto di trovare, clicco su cerca, e lui partirà, con le identifichazioni in ciascun fotogramma, se ha dei dubbi mi chiede, e in tempo reale riporta il grafico sulla tabella, sul riquadro in alto, e nel riquadro sotto mi darà anche la tabella dei dati, eventualmente questa è esportabile per analizzarla con altri software, quindi partiamo, cerca, questo sarà un po' lento anche perché deve analizzare tanti dati, e qui che tipo di curva dovrei ottenere, secondo voi? il moto della y, qui abbiamo la y in verticale, il tempo in orizzontale, dovremmo ottenere una sinusoide, o una cosinusoide, se il moto è veramente armonico, almeno a naso, e dopo vedremo, se è questo quello che otteniamo, oppure il nostro che sta ancora lavorando, si è fermato, non capisco il perché, possiamo ripartire, cerca, ecco, ok, chiaramente è maggiore, la risoluzione dell'immagine, maggiori sono i pixel dell'immagine, più tempo ci mette, anche perché adesso il software, sta facendo diverse cose insieme, sta facendo un'analisi, sta facendo un image processing, sta facendo una registrazione, sta facendo uno streaming, quindi, lo sto sottoponendo a un discreto stress, però ce la fa, già di aver parlato troppo presto, questo dovrebbe essere già sufficiente, vedete c'è già un'oscillazione e mezza, facciamole fare ancora un'altra, poi ci fermiamo, ok, già l'aspetto, già assomiglia parecchio a un sinusoide, quindi, è già un primo, è già buono, quindi qua è ancora questa, direi che possiamo anche fermarci qui, anche se siamo a metà, in realtà ha fatto quanti, una sessantina di fotogrammi, quindi non ha altri 120, sono anche un po' tanti, vabbè, diciamo che ci fermiamo qua, chiudiamo, adesso, fatto questo, abbiamo qui il grafico, della legge oraria, che dà la posizione in y, verso il tempo, per confrontare i dati, ogni puntolino rosso, qui è una misura, una misura in senso reale del termine, perché avendo dato all'immagine, la scala e avendo lui il software dentro il filmato, la scala temporale, questi puntolini sono un dato, che registra la posizione del nostro pesetto, a un determinato istante di tempo, associando al fotogramma iniziale, il tempo zero, se col pulsante destro del mouse, vado nel grafico e vado su analizza, il mail lo ingrandisce un pochetto, che non guasta, ecco, il software di suo, congiunge tutti i punti con un segmento, cosa che io non voglio, quindi qui tolgo la spunta, e vado, voglio andare a confrontare, questa successione, di punti, posizione e tempo, con una curva teorica, con un modello, quindi vado su analisi, fit delle curve, e lui mi dà tutto un campionario, la prima che esce, è quella lineare, c'è una retta, ma non è il caso nostro, noi vogliamo una sinusoide, ok, qui, mi dà tutto, una serie di parametri, a per seno di bt più c, ok, quindi a corrisponde all'ampiezza dell'oscillazione, b, vediamo, ritornare magari alla lavagna, il tracker propone, questo modello teorico, propone un y uguale ad a per il seno di bt più c, il nostro b corrisponde all'omega, vedete come prima, mentre a è l'ampiezza del moto, e c è la fase iniziale, ok, quella, l'angolo corrispondente, a t uguale a 0, questa funzionerebbe, sarebbe ideale, se oscillasse tra, più a e meno a, invece nel nostro caso, come vedete bene, il grafico, non è tra, più un numero, e il suo opposto, ma l'ossilio tra, mi sembra di leggere, meno 0,5 e 4,5, quindi in questo caso, non è centrato sullo 0, allora, ho due chance, o cambio, la, torniamo sulla lavagna, la mia curva teorica, e aggiungo qui, un più d, che è, il punto di equilibrio, ok, oppure, sposto il mio sistema di assi cartesiani, in alto o in basso, in modo tale da, centrarlo sullo 0, la cosa più semplice, è quella di introdurre il D, quindi torniamo al nostro programma, e, qui devo cambiare, questo tipo di formulazione, non so se si può vedere, adesso magari, cerco di ingrandire, vi dico, cerco una legge, non di questo tipo, quindi vado su, equazione del FIT, cioè il modello, doppio clic, e lui mi apre, una finestra, in cui io posso introdurre, leggi diverse, quindi intanto, aggiungiamo, un altro parametro, che chiamiamo, doppio clic su questo, vediamo se ce la facciamo, ecco, chiamiamo D, lasciamo il suo valore 0, tanto può essere la giusta, dopo andiamo sull'espressione, e cambiamo proprio la formulazione, ecco, alla fine, metto un più di grande, e questa la chiamo, non posso chiamarla più sinusoide, chiamiamola sinusoide 2, adesso sta confrontando questo, e possiamo, vediamo se l'autofit non ce la fa, non fa niente, andiamo a vedere per esempio, che il D, qui sono in 10 alla meno 2, quindi questo sono 2 per 10 alla meno 2, qui c'è un 6, mettiamo un 2, ok, poi qui l'ampiezza, mettiamo la positiva, quindi parte da 2, arriva fino a 4 e 5, quindi qui sarà 2,5, grosso modo, per 10 alla meno 2, e omega che è B, sarà positivo, e a 8, non dice la meno 4, ma 10 alla meno 2, no, dice la 0, dove è persa, ecco, vedete che già la curva teorica comincia a vedersi, cambiamo il, questo se lo possiamo portare un po' più in alto, un po' più in basso, scendiamo un pochetto, aumentiamo l'omega, diminuiamo, ecco, quasi quasi ci siamo, quando più o meno sono abbastanza vicino a quella teorica, posso dire, arrangiati, clicco su auto fit, e lui è giusto da solo, c'è un software interno che fa le cose per bene, quindi vedete che, con questo modello teorico, cioè quello che, sulle lavagne abbiamo scritto in questo modo, Raker cosa fa? mi dice, guarda, la tua legge oraria, è una sinusoide quasi perfetta, vedete che adesso, tutti i punti che sono bisure, sto, lo ripeto ancora una volta, sono quasi perfettamente sopra la curva che è per noi un modello teorico, se il moto non fosse armonico, non avremmo questo accordo, il moto potrebbe benissimo essere oscillatorio, ma non armonico, invece qui abbiamo una legge sinusoidale, che, con una sola formula, attraversa praticamente tutti i nostri punti, quindi viene confermata l'ipotesi che il moto è armonico, non solo, ma confrontando i valori A, B e C che ci dà il software, dice, guarda, il tuo B è circa, non so se si deve vederlo, 8,61, quindi, andiamo sulla lavagna, questo è il nostro dato importante, B è 8,61, dato che abbiamo messo unità standard, metri e secondi, questo è l'omega, quindi è radianti al secondo, ok? Possiamo anche approssimarlo, vabbè, facciamocelo così, in realtà la cifra ok è l'8, ok? 8 e 6 possiamo anche approssimarlo, possiamo dire, beh, in base al valore ottimato, stimato dinamicamente di omega, possiamo calcolarci qual è la costante elastica della nostra molla, che abbiamo visto prima, è omega alla seconda, in questo caso B alla seconda, per la massa M del pesetto appeso, attaccato alla molla, che abbiamo visto essere, l'avevamo visto prima nelle immagini, è circa 0,124 kg, 124 grammi, ok, diviso 1.000, e questo ci dà un valore approssimato di, vediamo se riesco, attaccato alla calcolatrice, ottimo, di, quindi punto, scusate, 8,61 alla seconda, per 0,124, quindi circa 9,19, 9,19 newton fratto metro, questa è la nostra K, e questa è una stima dinamica, ok, quindi utilizzando Tracker, abbiamo visto che, questo modello è ok, cioè il moto è armonico, ed è un moto armonico con pulsazione 8,61 radianti al secondo, d'accordo? il, torniamo al nostro software, ecco, nello stesso modo, possiamo anche analizzare, per esempio, che ne so, il valore del, qui, cliccando sul, come abbiamo cambiato prima, sull'ordinata, posso andare a selezionare, tutta una serie di grandezze fisiche, che il software calcola automaticamente, se ne voglio una, che non è già in libreria, basta che la definisco, per esempio, potremmo andare a vedere, per esempio, che ora succede della velocità in y, ovviamente anche quella, sarà una curva armonica, ma con la fase cambiata, mentre l'accelerazione, è uguale a meno omega quadro per y, in questo caso, la posizione è y, la posizione, ok? Ci sono domande? Fin qui? D'accordo. Una volta che uno ha fatto, questo tipo di analisi, è possibile, quindi qui abbiamo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo selezionato, una parte del filmato, perché tutto era troppo lungo, basta, un paio di oscillazioni sono sufficienti, abbiamo fissato la scala dell'immagine, abbiamo tracciato la parte centrale del nostro pesetto, abbiamo confrontato la legge oraria che otteniamo, con una sinusoide, se avessimo avuto un muoto in oscillatorio lungo l'asse delle is, avremmo trovato una cosinusoide, ma in realtà, la sinusoide e la cosinusoide sono equivalenti, perché basta cambiare l'angolo iniziale, abbiamo già visto con gli angoli associati, se ho due angoli che sono complementari l'uno aspetto all'altro, il seno dell'uno e il cosino dell'altro è viceversa. Questo si può riassumere o sintetizzare, combinando, aprendo, vediamo se non lo apre, questa è una cosa che lascerò fare a voi, questa bozza di relazione, normalmente quando si va in laboratorio di fisica, fare la relazione di quello che si è visto, è la cosa più difficile, perché gli studenti di solito pone diverse difficoltà. Qui vi ho lasciato una traccia, che deve essere facile da seguire, qui c'è la versione di tracker, questo è importante, noi stiamo usando la 5.1 mi pare, per saperlo è sufficiente andare, tornare su tracker, e andare su aiuto, e informazioni su tracker, 5.1.5, ok, quindi qui si mette la versione, la data, nome e cognome dello studente, titolo, quello che stiamo facendo adesso, quindi analisi, del moto di un corpo appeso ad una molla, scopo, verificare il moto armonico, e stimare, se volete stimare, la costante elastica, della molla, qua il filmato, abbiamo usato, adesso non mi ricordo più come si chiamava, mi sembra che era molla, 1, master, 123,5 grammi, punto moto, proprio il nome del file, per non avere dubbi, clip settings, ricordate quando abbiamo selezionato i fotogrammi, basta tornare su questa icona, mi dice, guarda hai preso dallo 0, fino al 120, ok, qui, basta mettere, da 0 a 120, in realtà ne abbiamo usati 60, ma insomma non fa niente, poi, nastro di calibrazione, ho usato, i due punti di riferimento, sull'immagine a 40 centimetri, l'un dall'altro, sistema di coordinate, centrato, quindi O, X, Y, coordinante cartesiane, centrato sul pesetto, nel primo fotogramma, anche altre scelte sono equivalenti, però almeno chiariamo dove abbiamo messo, cosa abbiamo tracciato, ho individuato, la parte dell'immagine, del pesetto, il pesetto, analizza il grafico, ho analizzato, il grafico, Y, trattino T, cioè, coordinata Y e tempo, ok, e ho, utilizzato, un modello, che non è standard, ma è di questo tipo, Y uguale a da, il per si fa con l'asterisco, sin B, maiuscolo, per T, più C, chiuso parentesi, più D, abbiamo inserito un parametro in più, risultati, allora, il moto, è ben descritto, qui è un E, ben descritto, da una legge sinusoidale, qui posso ripetere anche il modello, con, vediamo se c'è spazio anche dopo, con, qual è il risultato principale, B vale, cos'era, 8,61, 8,61, radianti, al secondo, quindi, dato che, K vale, B, alla seconda in questo caso, per il nostro omega per M, e la massa del pesetto è 0,124 kg, abbiamo che K, costante elastica della molla, era 9, non mi ricordo più, 19, grazie, newton su metro, ok, poi questo lasciamo con un attimo stare, conclusioni, questi, perché questi sono risultati della misura, quello che stiamo facendo, è una misura di due tipi, uno qualitativo, cioè la prima domanda è, il moto è armonico? Risposta sì, perché? Perché viene descritto da una legge sinusoidale del tempo, secondo, se il moto è armonico, qual è il periodo del moto, se volete la pulsazione del moto? La pulsazione vale 8,16 radianti al secondo, e quindi la costante elastica della molla vale tot, conclusione, il moto del peso attaccato alla molla, fatemelo solo dire senza scriverlo, ci metto, ci faccio più veloce, il moto del, l'oggetto appeso alla molla è un moto armonico, e quindi conferma il modello teorico in cui, il moto del corpo appeso alla molla, cioè soggetto alla forza elastica, è quello che si ottiene risolvendo l'equazione del moto, basata sul secondo principio della dinamica, è sulla legge di Hooke, cioè la forza elastica vale meno K volte l'allungamento o l'accorciamento della molla. Siamo agli sgoccioli come tempo, c'è un'altra fase importante, magari la vedremo insieme la prossima volta, o dietro in laboratorio, in cui il tracker ci permette di dire, ok, qui abbiamo fatto una misura basata su dei modelli predefiniti, d'accordo? Ma Tracca mi dice, ok, ma se tu hai un'equazione che mi dice qual è l'espressione analitica della forza risultante, allora io, Tracca, risolvo l'equazione che tu mi proponi, creo un'immagine teorica che dovrebbe essere la posizione del pesetto, se la tua formula fosse corretta, e la sovrappongo a quella reale. Vi mostro, questo possiamo salvarlo, si può salvare il lavoro semplicemente cliccando sulla cosa, e lo metto nella stessa cartella dove abbiamo i filmati, e vediamo se riesco a mostrarvele molto velocemente. Allora, vediamo, deve essere questo, non so se ci vuole un'altra, qui ho fatto creare questo marcatore virtuale o teorico se volete, che è la conseguenza del secondo principio della dinamica applicato al nostro sistema, e con quello riesco ad andare a confrontare la posizione della nostra molla dove l'ho misurata, e quella dove la legge di Newton mi dice che dovrebbe essere. Una è il marcatore rosso, la misura è quello verde e quello teorico. Vediamo se, qui mi dà addirittura il, vediamo se riesco a farmi, se la mia teoria è corretta, la posizione verde, il marcatore verde e quella del pesetto dovrebbero combaciare. Possiamo anche fermarci. Ecco, qui vedete che le due tracce, quella verde e quella rossa, sono quasi perfettamente sovrapposte. Quindi riesco a far visualizzare un'equazione teorica sovrapposta all'immagine reale. E posso regolare, per esempio, parametri ignoti, come per esempio il K, posso regolarli in modo tale che le due coincidano. Abbiamo già visto che il tipo di moto è molto armonico, ma per esempio potremmo stimare il valore di K in questo modo qua. Questo è un'esame un'esame un po' più approfondita, per adesso diciamo che mi basta o ci basta quella che abbiamo visto precedentemente. Questa eventualmente la faremo in laboratorio se col filmato della molla che faremo insieme dal vivo. Ok? Ci sono domande fin qua? Sennò chiudo. Anche perché sta a persona. Grazie, alla prossima. Grazie.